è la musica non si senta vai vai alla grande vai bravissima mi dici vai è vero scuro è così avvicinati un po vai alla grande alza un po la base va a partire i raggi oh yes ecco il cantante federico sta cantando una bella no tutta da cantare sta cantando sta vedendo il filmino quindi a fare un cantante di quello originale proprio quello lo mandiamo a federico lo mandiamo alla corrida poi un bel profilo federico un bel profilo eh 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 che dice vai eh 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 안녕하세요 Un vero cantante, non sembra un inglese, non sembra un uomo, no, no, dove vai? Sono uscito dalla camera, ah, anche la, fai pure la voce da donna, pure la voce da donna fa, che bravissimo, a quella felice di questa canzone, stacchiamo? E adesso vedremo anche, in conclusione vedremo anche il balletto, il balletto che fa, fa il balletto, come potete vedere, oh yes, oh yes, che balla anche, chi dici? Siamo di Michael Jackson, bravo Federico, stasera lo pubblichiamo su Facebook, che dici? Lo possiamo pubblicare? Vedere il consenso, sì? Ok, vai, ma quanto non è questa canzone? Oh, chi ha pensato di film, mi non è felice? Vabbè apposta, grazie a questa tua interpretazione. Di niente sai, perché mi sono imparato molto, mi sono messo Anna McCore, Anna McCore, The Spear Rhyme, ok, chiudiamo? Vabbè saluto a tutti, ciao, ciao, ciao.